Secondo me la Roma prendendo Juric si è tirata fuori dalla lotta Champions Buon poverizio ragazzi e bentornati sul canale Io sono Dario Diotto Alderion, oggi è mercoledì Stiamo aspettando Juventus-Napoli che sarà di sabato Domani ci sarà la conferenza stampa di Conte Quindi domani video sulla conferenza Però oggi mi andava di parlare un po' insieme a voi Perché sono successe delle cose stamattina e anche ieri sera Che secondo me indirettamente vanno a incastrarsi bene con il discorso Napoli E voglio partire dalla Roma Ragazzi stamattina ci siamo un po' tutti svegliati con questa notizia Che a mio avviso era abbastanza inaspettata Cioè la Roma ha esonerato De Rossi Lo ripeto non me lo sarei mai aspettato un esonero in questo momento Perché tu comunque hai fatto appena quattro partite Sì non hai vinto neanche una partita Hai fatto tre pareggi Uno contro la Juve che secondo me è ottimo Il pareggio col Genova A mio avviso è influenzato anche da un rigore non dato alla Roma Cioè ci sono stati anche degli episodi a sfavore della Roma in queste quattro partite Comunque l'avvio non era stato sicuramente uno dei migliori Non sono uno che si limita a vedere solo il Napoli Ad ascoltare il mondo Napoli Ascolto un po' tutte le campane No, la campana del Milan, della Juve, della Roma, della Lazio Perché mi piace Sono andato a leggere il comunicato della Roma E ho letto le motivazioni per cui la Roma ha esaurato De Rossi Praticamente il motivo è perché hanno paura di perdere il treno Champions È una cosa che si può capire Cioè nel senso è comprensibile questa paura Perché comunque la Roma sì ha fatto un mercato importante Ma davanti a sé ce l'ha almeno quattro squadre Che hanno più chance di andare in Champions Quindi tu dici Bisogna partire subito bene e mettere la marcia subito Perché altrimenti quest'anno si rischia di non andare di nuovo in Champions Però quello che dico io è Ok tu hai sonri De Rossi perché vuoi andare in Champions Perché prendi Juric? Ragazzi la Roma ha sostituito Ormai sarà penso fra poco ufficiale La Roma ha sostituito De Rossi con Juric E tu vuoi andare in Champions con Juric? Mio modesto parere Che può essere tranquillamente smedito Io non avrei assolutamente puntato su Juric Perché non mi sembra un allenatore che ti fa fare quello step in avanti Io se volevo puntare la Champions avrei preso un Allegri Che magari non è un allenatore che ha un gioco spupeggiante Però la qualificazione in Champions la sa prendere Sa come si gestisce un obiettivo del genere Avrei preso un Sarri Avrei fatto altre scelte rispetto a Juric Che con tutto rispetto mi sembra un downgrade A me sembra un downgrade Secondo me la Roma prendendo Juric Si è tirata fuori dalla lotta a Champions E' una scelta che non mi convince sinceramente Io se fossi tifoso da Roma oggi sarei molto preoccupato per il futuro Diciamo per il proseguo di questa stagione Ora perché De Rossi è stato esonerato? Per i risultati? Secondo me i risultati sono stati solo un pretesto Perché tu dopo quattro partite Cioè io trovo inconcepibile esonerare un allenatore dopo appena quattro partite Secondo me i problemi sono oltre il campo Cioè probabilmente problemi con la dirigenza Ci sono stati degli episodi extracampo Nelle ultime settimane Il litigio con Cristante Poi l'ultima quella con Zaleski Di Bala che non è andato più in Arabia Secondo me il problema è stato lì Cioè sono stati problemi che non c'entrano niente con la tattica Con il lavoro su campo Ma sono problemi legati appunto A rapporti forse che si sono inclinati Però ripeto Secondo me prendere Juric vuol dire Tirarsi fuori dalla lotta a Champions Io la penso così in questo momento Secondo me De Rossi è stato trattato in un modo abbastanza secondo me irrispettoso Non avrei mai preso Juric Se dovevi fare il salto di qualità io avrei preso Sarri o Allegri E quindi questa è la situazione da Roma C'è poi la situazione Milan Che è un'altra diciamo situazione Abbastanza in crisi Perché ieri c'è stata la partita contro il Liverpool Io me la sono vista la partita E ragazzi vi dico la verità Una partita deprimente Lato Milan Non si poteva pensare di battere il Liverpool Perché quello era abbastanza difficile Però almeno fare una prestazione dignitosa contro il Liverpool Era secondo me una cosa che doveva essere la base Cioè tu puoi anche perdere 3 a 1 Ma non perdi come hai perso ieri Perdi in una maniera più dignitosa Ragazzi il Milan non ha fatto letteralmente niente Non c'è stato uno sprazzo di gioco Non c'è stato Non c'è stato niente Tolti i primi due minuti Dove poi c'è il gol di Pulisic Ma poi dopo non c'è stato più niente Il Liverpool non si è neanche troppo impegnato A battere il Milan Veramente come Del lato Liverpool Sembrava una partitina d'allenamento E la cosa ancora più grave Secondo me è successa nel post partita Perché io ho visto un Fonseca Un po' Sapete Fonseca che mi ricorda? Garzia Io nel Milan di quest'anno Sto cominciando a intravedere il Napoli l'anno scorso Vedo un allenatore confuso Perché poi c'è stato il dialogo con Boban E Capello nel post partita Bonman che gli dici che gli ha detto proprio chiaramente Raiders e Loftus Cic sono mezzali Tu perché giochi col 4-2-3-1 Fonseca mi sembra uno un po' Testato nel senso che Fa prevalere la sua idea E anche di fronte all'evidenza Lui continua ad andare con la sua idea A costo anche di farsi del male Nel Milan poi secondo me c'è un problema aggiuntivo rispetto alla Roma Che è la dirigenza Ragazzi Ibrahimovic Ibrahimovic Io sto continuando a vedere il calciatore Non il dirigente Perché anche lui nel pre partita Ha detto delle cose Che posso aspettarmi dal calciatore Perché il calciatore era un personaggio Che era fortissimo Però aveva un caratterino Era un personaggio Ma da un dirigente Non posso sentire la sorella del leone Dei gatti Ibra secondo me non si sta rendendo ancora conto Che non sta facendo più Ibrahimovic calciatore Ma sta facendo il dirigente E da dirigente Devi avere un certo comportamento Secondo me devi avere Una plomb Diversa E quindi il Milan è un'altra situazione in questo momento Dove c'è confusione C'è crisi Io sinceramente il 4-0 contro il Venezia Non l'ho ritenuto una partita Dove tu dici il Milan è tornato Perché comunque il Venezia Diciamo che l'unica squadra Al momento che si sta rivelando La classica squadra cuscinetto No che sale Ma che in realtà Non è questo grande problema Per gli avversari Perché comunque Vedi un Verona Che con le lunghe e con i denti Ti dà molti problemi Vedi un Empoli Che ti dà molti problemi Vedi un Udinese Che prima è che sta facendo Un campionato Pino a strepitoso Tutte diciamo le piccole Tra virgolette Si stanno rivelando squadre ostiche Difficili da affrontare Il Venezia è l'unica squadra Che a mio avviso Secondo me Finora non ha Fatto vedere niente Poi diciamoci la verità Ragazzi Il primo gol del Milan È una papera di Joronen Che se la butta dentro Il secondo gol Cioè il primo rigore È Joronen Che fa una papera Clavorosa Quindi quella partita Se la sono anche un po' C'è stato anche un mezzo suicidio Del Venezia In quella partita Quindi io Quei 4 a 0 Non ho mai considerato Un test Un banco di prova Per dire Il Milan è tornato A essere il Milan Questa sconfitta pesante Per come è arrivata E per come il Milan ha giocato Mi fa pensare ulteriormente A un Milan che sta un po' Sprofondando nell'abisso E non mi sorprenderei Se a breve Fonseca Possa essere messo seriamente In discussione Noi ci sta il derby Il prossimo weekend Quindi mi sa Che Fonseca Già sta Sul filo del rasoio Ora voi direte Ma ok Ci hai parlato di Roma e Milan Ma che ci azzecca Con il Napoli Ragazzi ci azzecca Veramente tanto Perché Noi comunque Lasciando da parte La classifica Al momento Lasciando da parte Queste 4 giornate A bocce e ferme Che abbiamo detto Prima dell'inizio Del campionato Il Napoli Si lotta Il posto Champions Principalmente con Milan Adalanta E Roma Poi ci sono Fiorentina e Lazio Che possono essere Delle sorprese Possono essere Delle mine vaganti Ma io personalmente Le metto un gradino sotto A queste squadre E poi ci sono Inter e Juve Che fanno quasi Un campionato a parte Perché stanno Sul livello più alto Rispetto agli altri E capite bene Che tu comunque In questo momento Ti vedi un Milan Che è in piena crisi Con un allenatore Che non ci sta Capendo niente E che rischia anche Di essere a breve Esonerato C'è una dirigenza Che non si capisce Cosa sta combinando Vedi poi una Roma Che sonera dei Rossi Va a prendere Iulic Cioè Non dico che il Milan E la Roma Si sono tagliate fuori Perché è presto Siamo alla quinta giornata Però in questo esatto Preciso momento L'Atalanta e il Napoli Sono avanti E si trovano Secondo me In una situazione Di vantaggio Devi approfittare Di questa situazione Ho voluto approfittare Ecco della situazione Di Roma e Milan Per dire comunque Che il Napoli Ecco In questo momento Sta avendo un po' E diciamo Il destino lo sta aiutando Non so come dirlo Però Queste situazioni Di Roma e Milan Stanno sicuramente Dando una mano Dando una mano al Napoli Poi ripeto Bisogna vedere come Se il Milan Uscirà fuori Da questa situazione Se cambierà L'allenatore E vedere poi Il nuovo allenatore Cosa farà Bisogna vedere Se Iulic Si inserirà Però tu Oggi 18 settembre Tu Napoli Insieme all'Atalanta Sei avanti E sei in una posizione Di vantaggio E tu questo vantaggio Lo devi sfruttare Come lo devi sfruttare Facendo i punti Per mettertele dietro E cercare di Tenerle lontane Il più possibile E devi farli già Sabato contro la Juve Che non sarà facile Ragazzi La Juve Ieri Partitone In Champions League Partitone Prima partita 3 a 1 Contro il PSV Nel calcio Come avevo detto Più volte Esiste anche La componente fortuna No La fortuna Si può anche tradurre Con un periodo di crisi Per le tue rivali Che è appunto Quello che sta succedendo A Roma e Milan Quindi Ragazzi Dobbiamo assolutamente Approfittare di questo momento Così come dovranno Approfittare Forse anche Fiorentini e Lazio Che magari Vedono Che c'è un vuoto Diciamo Di potere Tra virgolette In quella zona Da classifica E possono Aguantarla Ok Quindi Questo periodo Di Roma e Milan Deve essere un po' Un Light motive Deve essere Una motivazione in più Per le altre Di quella categoria Per Approfittare di questo momento E cercare di Mettersi in una posizione Di vantaggio Ecco Quindi ragazzi Questo è quanto Noi ci vediamo domani Con la conferenza Di Conte Pre-Juventus Napoli Ditemi un po' La vostra Ditemi Secondo voi Se Roma e Milan Riusciranno A riprendersi Se Milan Se Milan Ne suonerà Fonseca Se Juric Farà bene Ditemi un po' Un vostro parere Su questo Periodo di crisi Di Milan E Roma Lasciate un bel like Mi raccomando Ragazzi Per il video Iscrivetevi Che è totalmente gratis E attivate poi La campanella Detto questo Noi ci vediamo domani E sempre Comunque Forza Napoli Ciao Grazie a tutti